Rolex Sea-Dweller Acciaio, un'eredità di eccellenza. L'orologio Rolex Sea-Dweller Acciaio porta con sé un'eredità di eccellenza e innovazione. Nel 1967, Rolex ha lanciato per la prima volta il Sea-Dweller come risposta alle esigenze dei subacquei professionisti. Uno dei progressi più significativi era l'aggiunta di una valvola di elio, brevettata da Rolex, che consentiva di evacuare l'elio accumulato durante le immersioni nelle camere di decompressione. Questo elemento innovativo ha reso il Sea-Dweller un orologio di riferimento per gli appassionati di subacquea, poiché garantiva la sicurezza e la precisione necessarie per le immersioni a grande profondità. Il modello originale del Rolex Sea-Dweller Acciaio, noto come «double red» per la scritta rossa «Sea-Dweller» sul quadrante, è oggi un pezzo da collezione molto ricercato tra gli amanti degli orologi Rolex. Questo orologio rappresenta la fase embrionale del Sea-Dweller, in cui è iniziata la sua evoluzione e si sono gettate le basi per la sua eredità di prestigio. Il design del Rolex Sea-Dweller Acciaio è un'icona di stile e funzionalità. La combinazione di acciaio inossidabile, lunetta girevole e quadrante leggibile ha ispirato generazioni di orologi subacquei. Il suo aspetto robusto, ma elegante, si è rivelato senza tempo, tanto che anche dopo decenni. Il Rolex Sea-Dweller Acciaio continua a catturare l'immaginazione di subacquei e appassionati di orologi. La lunetta girevole unidirezionale, caratterizzata da numeri e marcatori luminescenti, è un elemento fondamentale per misurare con precisione il tempo trascorso sott'acqua. Questa funzione non solo migliora la sicurezza durante le immersioni, ma è diventata una caratteristica distintiva dell'orologio. Il suo design elegante e funzionale lo rende adatto sia alle avventure subacquee che agli eventi formali. È un orologio che abbraccia lo stile di vita attivo, ma che può anche completare un look sofisticato con eleganza e raffinatezza. Che tu sia un subacqueo esperto o un appassionato di orologi alla ricerca di un pezzo di alta qualità, il Rolex Sea-Dweller Acciaio è una scelta che non delude mai. La sua affidabilità in condizioni estreme e il suo design iconico lo rendono una scelta senza rivali per gli esploratori.